musica 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 togli un po' il telo il legno è tutto sotto oh cavolo spostala e vai in la musica 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 dobbiamo poi andare a tutta questa regna qua dai vieni la mettiamo nella carretta poi la portiamo dall'altra parte musica 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 va bene va bene va bene musica 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 Cosa è successo? Dai ti faccio vedere se lo dobbiamo portare a legna Ma che ti è capitato qui? Non lo so, ho fatto un colpo di sonno ma capisco come sia possibile, non mi capita mai Vieni vieni, è qua che dobbiamo mettere la legna Cosa è la mia? Cosa è la mia? Ciao cari YouTube attori, questo è stato un piccolo video dedicato agli amiibo, ce ne saranno altri, farò una serie di video corti dedicati ad ogni amiibo o più amiibo, questo è Volkswagen, vi presento Volkswagen. Gli ultimi miei video sono stati video sui viaggi, sono stati una cosa particolare, anche se non c'entra molto con il mio canale, farò ancora altri video dedicati a Cuba, visto che andrò un mese a Cuba, vi prenderò con video più nerd. Se mi piace questo video degli amiibo, sarà parte di tutta una serie nuova, con tanti personaggi, tante persone, cercherò di coinvolgere più persone possibile, storie sempre diverse. Grazie per la visualizzazione, mettete mi piace se vi è piaciuto, commentate e ci vediamo nel mio prossimo video, ciao!